Salve gente! Ok, vorrei fare questo video in cui vi spiego le motivazioni che mi hanno condotto più volte ad abbandonare l'allenamento e quindi l'alimentazione e tutto ciò che è contingente all'allenamento sia per brevi periodi di pochi mesi e in un caso specifico per addirittura un anno e mezzo Ebbene, tutti questi momenti, tutti questi episodi in cui ho abbandonato la palestra sono avvenuti nello stesso periodo dell'anno, ovvero autunno e c'è una correlazione, c'è un motivo per questo perché in autunno generalmente si ricomincia a fare massa, si esce dal periodo di definizione Questo cosa comporta? Comporta che bisogna attuare un cambiamento bisogna cambiare stile di vita si passa dal regime alimentare di allenamento della definizione quindi il regime ipocalorico o normocalorico con allenamenti generalmente più intensi anche se personalmente il mio allenamento non cambia molto tra massa e definizione però una parte delle persone attua dei sistemi di allenamento differenti comunque c'è questo grandissimo cambiamento però il problema maggiore non è tanto nel cambiamento dello stile di vita ma nel cambiamento di quella che io chiamo la percezione di sé è ciò da cui trai soddisfazione nell'attività che stai svolgendo in questo caso la palestra, l'alimentazione, il fitness o il bodybuilding perché durante la definizione siamo abituati o durante il periodo di mantenimento siamo abituati a trarre proprio soddisfazione, piacere dal vederci definiti dal vedere che stiamo dimagrendo o che comunque siamo appunto definiti che cosa succede quando si cambia stile di vita si ricomincia a mangiare si adotta un piano di alimentazione ipercalorico che inevitabilmente ci si appanna non si è più definiti poi in base al livello di calorie al surplus calorico che abbiamo scelto di avere si può perdere la definizione più o meno velocemente però io personalmente utilizzo un surplus calorico abbastanza elevato almeno 500 calorie quindi inevitabilmente la definizione la perdo, la si perde e quindi quello che prima era il principale motivo di soddisfazione, di realizzazione ovvero il vedersi allo specchio vedere che si è definiti, che si è estetici dal punto di vista muscolare viene improvvisamente meno e quando dico improvvisamente mi riferisco a poche settimane perché nel giro di poche settimane con un certo surplus calorico si perde la definizione quindi bisogna cambiare modo di pensare a cambiare alimentazione, a cambiare allenamento non ci vuole quasi niente non è tanto difficile certo le abitudini sono una cosa difficile da modificare ma per chi fa questa disciplina cambiare abitudini se sono poi ricorrenti durante l'anno cioè il periodo di massa, il periodo di forze, il periodo di definizione non è difficile, tu sai quello che devi fare, lo fai ciò che è difficile è cambiare modo di pensare cambiare, come dire, assetto mentale verso ciò che stiamo facendo quindi il trarre soddisfazione non più dall'essere definiti, dal vedersi definiti ma da altre cose ovvero dall'avere più forza dall'avere più volumi muscolari dall'essere più grossi e questa è una cosa che non avviene dall'oggi al domani perché non è che tu ti svegli la mattina successiva e improvvisamente hai un fisico di uno che sta facendo massa sei ancora quello che eri il giorno precedente solo che ti vedi più appannato quindi entri in uno stato, in uno stadio in cui non sei né carne né pesce, possiamo dire sei una via di mezzo non sei più definito come eri il mese precedente ma non sei neanche massiccio e forte come sarai nel pieno del periodo di massa quindi io mi sono ritrovato a perdere la motivazione e a non varcare più la soglia della palestra durante questi periodi durante l'autunno durante il periodo in cui finivo di fare definizione iniziavo a fare massa c'è anche da dire ci sono da fare altre due premesse generalmente nel momento in cui smettiamo di fare definizione e torniamo a mangiare inseriamo più calorie nella nostra alimentazione per un paio di settimane stiamo anche molto meglio perché i muscoli si riempiono la definizione non scompare di botto quindi stiamo anche meglio i problemi arrivano successivamente e questo spesso cosa ci porta a fare? ci porta a abbandonare l'alimentazione perché iniziamo a mangiare si apre il cosiddetto vaso di Pandora perché più si mangia e più si ha voglia di mangiare e quindi non si calcolano più i macronutrienti almeno chi lo fa come me cessa di calcolare le calorie cessa di calcolare i macronutrienti e si inizia a mangiare a sazietà e a desiderio diciamo a volontà e sì questo può funzionare fino a un certo punto ma per me che sono molto goloso per quelli come me che sono molto golosi a un certo punto si toppa con le calorie inevitabilmente il surplus calorico non sarà più di 500 calorie ma di 1000, di 1500 calorie e lì si perde la definizione a una velocità incredibile infatti l'anno scorso pur continuando ad allenarmi anche molto seriamente raggiunsi 91 chili che su di me che sono 1,70 1,71 potete immaginare che sono tantissimi infatti avevo una pancia trasbordante letteralmente però diciamo che ero consapevole del fatto che sarei riuscito a perdere quel peso in eccesso con relativa facilità e l'ho fatto ebbene adesso mi ritrovo più o meno nella stessa situazione quest'estate ho raggiunto una buona definizione un'ottima definizione e da ormai un mese ho ricominciato a mangiare quasi a sazietà diciamo senza farmi troppi problemi l'unica mia preoccupazione è quella di far rientrare una certa quantità di proteine nei pasti cioè di rendere i miei pasti relativamente bilanciati non solo carboidrati se faccio un pasto se mangio un dolce non mangio unicamente il dolce ma mi mangio anche un po' di tacchino un po' di proteine un paio d'uova eccetera aggiungo anche le proteine al mio pasto ecco questa è l'unica mia preoccupazione poi per il resto mangio a sazietà e questa è una cosa che per me potete immaginare che fino a poco tempo fa era pura blasfemia anche perché quando ho iniziato a fare massa al mese scorso ho iniziato contando continuando a contare i macronutrienti e le calorie mantenendomi sulle 3000 calorie che comunque rappresentano un surplus calorico di 500 calorie che è più che sufficiente per fare una buona massa però ciò nonostante ho perso l'abitudine di calcolare i macronutrienti e adesso sto tornando a mangiare diciamo a sazietà e a volontà quest'anno però non prevedo di fare la fine dell'anno scorso in cui raggiunsi i 90 kg di peso anche perché adesso ne peso ancora 76 e avrei poco tempo per raggiungere i 90 kg entro dicembre cioè fra pochi giorni peso che raggiunsi l'anno scorso esattamente nello stesso periodo dell'anno quindi mi sto contenendo anche perché ho cambiato stile di vita lavoro in palestra quindi sono più dinamico e di certo un fabbisogno calorico più elevato e niente come ho detto tutti i periodi in cui tutte le volte che ho abbandonato l'allenamento è stato in questo periodo quindi state attenti quando cambiate le vostre abitudini tra massa e definizione tra definizione e massa eccetera a non lasciarvi andare non dico lasciarvi andare nel senso di abbandonare il conteggio delle calorie dei macronutrienti perché questo ci sta anche in massa e non dico che bisogna sempre calcolare i macronutrienti c'è chi non li calcola affatto c'è chi li calcola sempre e entrambi possono raggiungere i risultati dipende da tante cose da tanti fattori però non dovete associare questa svogliatezza mentale nel calcolare i macronutrienti o comunque nel seguire un piano all'abbandono definitivo o comunque totale di quella che è la disciplina e l'attività di allenamento queste due cose non devono essere associate si può mangiare male tra virgolette e continuare ad avere risultati in palestra aumentare la massa e aumentare la definizione finché c'è il surplus calorico anche se è eccessivo i danni che si si ottengono che si fanno durante questo periodo in cui ci si lascia andare durante l'inverno possono essere si può rimediare a questi ultimi facendo una buona un buon periodo di definizione quindi non bisogna abbandonare nel momento in cui si abbandona i danni sono triplicati perché oltre a mangiare troppo e male e quindi ad aumentare troppo l'ABF la massa grassa ci si abbandona anche quindi si riduce si abbandona l'allenamento quindi si riduce anche la massa magra quindi c'è uno shift globale diciamo totale di quella che è la composizione corporea la forza e tutto il resto quindi bisogna stare attenti a non lasciarsi andare del tutto ci si può lasciare andare parzialmente al prossimo video grazie a tutti